Musica Abbiamo controllato le distanze e quindi possiamo adesso parlare a viso aperto. È stato un anno difficile, complesso e articolato, ma siamo sicuri che queste feste porteranno via molte delle nostre ansie. La distanza che maggiormente mi ha preoccupato in questo periodo è da tutti voi, dal personale tecnico-amministrativo, dagli studenti, dai colleghi, tutti quanti impegnati a cercare di accorciarla. Ma adesso lo posso dire, e purtroppo ancora lo posso dire con un video, ma spero per poco, buon anno e buone feste a tutti.